Domanda, che cosa intendete quando dite che noi siamo i creatori delle nostre vite? Intendiamo che quando vi dovete incarnare, la vostra coscienza prima si incarna nella materia del piano mentale, dove acquisisce un corpo mentale e quindi il suo modo di pensare, poi si incarna nella materia del piano astrale, dove acquisisce un corpo astrale e con esso le sensazioni, le emozioni e i desideri che le saranno propri e infine si incarna nella materia del piano fisico, dove acquisisce il corpo fisico o veicolo fisico. E la coscienza come crea tutto questo? Con il suo grado di evoluzione. Per questo vi ripetiamo che voi siete i creatori delle vostre vite, perché voi non avete un una coscienza, voi siete coscienza. Domanda, che cosa intendete quando dite che noi siamo i creatori delle nostre vite? Intendiamo che quando vi dovete incarnare, la vostra coscienza prima si incarna nella materia del piano mentale, dove acquisisce un corpo mentale e quindi il suo modo di pensare, poi si incarna nella materia del piano astrale, dove acquisisce un corpo astrale e con esso le sensazioni, le emozioni e i desideri che le saranno propri e infine si incarna nella materia del piano fisico, dove acquisisce il corpo fisico o veicolo fisico. E la coscienza come crea tutto questo? Con il suo grado di evoluzione. Per questo vi ripetiamo che voi siete i creatori delle vostre vite, perché voi non avete una coscienza, voi siete coscienza. Domanda, che cosa intendete quando dite che noi siamo i creatori delle nostre vite? Intendiamo che quando vi dovete incarnare, la vostra coscienza prima si incarna nella materia del piano mentale, dove acquisisce un corpo mentale e quindi il suo modo di pensare, poi si incarna nella materia del piano astrale, dove acquisisce un corpo astrale e con esso le sensazioni, le emozioni e i desideri che le saranno propri e infine si incarna nella materia del piano fisico, dove acquisisce il corpo fisico o veicolo fisico. E la coscienza come crea tutto questo? Con il suo grado di evoluzione. Per questo vi ripetiamo che voi siete i creatori delle vostre vite, perché voi non avete una coscienza, voi siete coscienza.